Ciao a tutti, persone false, riconoscerle da questi otto segnali. Allora, quali sono i segnali che permettono di riconoscere le persone false? Andiamo a vederle adesso. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, primo segnale delle persone false, chiamano sempre, costantemente stare al centro dell'attenzione. Questo è di fatto, è una delle caratteristiche fondamentali delle persone false. Un egocentrismo talmente alto che sarebbero disposti appunto anche a mentire per stare, o essere false, per stare al centro dell'attenzione. Seconda caratteristica è che se si sentono, come dire, sentono di avere torto, piuttosto che a metterlo, tendono a ferire, tendono a, diciamo, a mettere in atto dei comportamenti aggressivi. Nel momento in cui non riescono a riconoscere che non sono sulla strada giusta, piuttosto che non riconoscerlo, arrivano proprio anche ad offendere. La terza, caratteristiche che sono opportunisti, non riconoscono il valore dell'amicizia come uno scame, ma prendono e poi difficilmente danno. Anche se danno a parole, no? Perché utilizzano termini, no? Quando parlano di qualcuno, ah, un mio caro amico, il mio migliore amico, qua, là, su giù, poi però, di fatto l'amicizia resta un... resta semplicemente nelle parole, insomma. E il quarto indizio è che tendono a essere arroganti. Cioè l'arroganza, come dire, si... e danno anche consigli non richiesti, si presentano come a dare consigli ex-catedra senza, diciamo, ritenere, senza che neanche gli sia stato chiesto, insomma. Pensano di essere superiori agli altri, fondamentalmente, questa è la caratteristica che pensano. Il quinto punto è che percepiscono le altre persone come solo o, diciamo, o antagonisti oppure complici, o bene o male. Non, diciamo, o con me o contro di me. Hanno questa cosa qua, no? Se stai con me non puoi star con lui. Ecco, questo è... è questa cosa qua. Il sesto punto è che quando incontrano il grande Cesare, quando incontrano una persona potente, ricca e tutto, diventano dei lecchini, cioè adulatori, insomma. Cercano la captatio benevolenza. Quindi non... anche se... sono dei cortigiani, insomma, delle cortigiane. Per il... quando trovano una persona di potere, si inchinano e fanno insalamelecchi. Altre caratteristiche è che tendono a parlare sempre di se stessi, di quello che fanno, di quello che hanno raggiunto, di come... di come sono bravi, di come sono belli, di come sono buoni. E poi, l'ottavo punto è che parlano male degli altri. Tendono a parlare male delle altre persone. Questa è un'altra caratteristica che caratterizza, diciamo, pienamente le persone... le persone false. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti.